Il mancato rispetto della legge sulla clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione preesistente nei casi di cambio di gestore delle commesse di lavoro rischia di aprire il varco a un'avvertenza di dimensioni enormi. Il primo settore a soffrirne sarà quello del contact center e l'Aquila, la città più penalizzata al punto da sfiorare la crisi sociale per la dimensione occupazionale raggiunta sinora, quasi 2000 addetti in tutto l'Aquilano. A lanciare un vero SOS al Governo e in particolare al Ministero del Lavoro è stato questa mattina il referente nazionale del settore call center del sindacato CISAL Comunicazione Venanzio Cretarola. In tutti gli accordi applicativi della legge fatti in Italia in quasi tutti, in realtà non si è applicata correttamente questa norma. In ogni caso si è proceduto a licenziamento, riduzione di personale, riduzione del trattamento economico, riduzione dell'inquadramento professionale. Abbiamo richiesto nell'incontro, abbiamo avuto la settimana scorsa insieme ad altri sindacati al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo, una verifica finale sulla applicazione della corretta e un chiarimento ufficiale del Ministero su come si applica correttamente. Dall'Aquil, abbiamo detto e ne siamo convinti, può partire la soluzione per tutte le vertenze in corso in Italia perché questa vertenza è partita dall'Inps e se questa norma va applicata in un certo modo dall'Inps, gioco a forza, va applicata allo stesso modo in tutte le aziende perché l'Inps è l'ente che fa anche i controlli in tutte le aziende. Con lui una delegazione dei lavoratori interinali dell'azienda Customer2Care, licenziati dall'azienda che si appresta a cambiare il gestore della commessa Wind3H3G, pur essendo addetti al servizio da due anni in maniera continuativa e quindi sottoposti a clausola sociale. Una norma che ha fatto strada in Italia partendo proprio dall'Aquila e dalla vertenza che due anni fa ha riguardato l'Inps, gestita nel capoluogo di regioni da quasi 600 lavoratori. Cretarola denuncia la mancata attenzione delle parti sociali e delle istituzioni su quella che definisce una procedura illegittima adottata dall'azienda.